L'attenzione adesso a Rivas che chiama le ali a una difesa estrema, le ali si pone davanti poi la regina insiste, MNES si scontra con la difesa al momento di battere a rete, non si scontra, ricoperto Rivas che esplode al sinistro in diagonale che porta in vantaggio la regina, 64esimo minuto, fischia il direttore di gara, finisce con la regina che vince